...pronta a illuminare il trapo di San Siro con le loro stelle, ci siamo ormai, giusto il tempo di salutarsi, Stefano Nava con me, come sempre per il commento. Eeeh, c'è il pienone eh, nessuno è voluto mancare l'appuntamento, anche voi amici a casa preparatevi a aggiustarvi questo spettacolo, noi vedremo delle belle. Spettacolo di vestimenti assicurati, quando gioca Cristiano Ronaldo, con i difensori avversari che avranno certamente preparato un trattamento sociale per provare a limitarlo. E' difficile ingabbiare un po' di tratti come l'uno, una panna sopra gli altri, poi ha risolto qui la partita, primo pallone toccato, non ha giocato, un'invenzione incredibile. Ecco l'undi sul titolare del Milan. A giudicare da quello che è vero direi che hanno scelto il più classico del 4-4-2 per il match di oggi. Modulo sicuramente tra i più utilizzati in assoluto, ma che si potrebbe fare più interpretazione, se lo studiiamo di vedere cosa è in servo dunque l'allenatore. Sì, è un nuovo passaggio da di partenza della Juve. E qua un'altra cosa scende in capo oggi, ricalza quella che è la filosofia del tecnico. Senniare un gol in più degli avversari. E' un modulo che in passato ci ha regalato un match ricchi di gol di edizione. Speriamo di non rimanere delusi. Sì. E' iniziata Mila Juve, è arrivato il momento di fare sul serio E vedremo quali dei due squadre riuscirà a passare Dalle parole il fattiger Stavo Castigliero Cazzo cata di Pjanic E' ancora fare qui il fattigerio